Otto partite, poche forse per fornire valutazioni insindacabili e soprattutto definitive. In casa Piacenza però questo strano avvio di campionato, con zero sconfitte sul groppone ma qualche balbettio sotto il profilo del gioco, ha già fatto emergere le prime certezze e anche le prime delusioni. La seconda miglior difesa del campionato è quella biancorossa, anche perché tra i pali Ferrari dimostra senza affanni di valere la categoria. Non c'erano dubbi, come del resto ancora meno erano le perplessità legate alle reali potenzialità di Bomber Marrazzo in un campionato che conosce alla perfezione. Tra i top di questo primo assaggio di stagione però non può essere dimenticato Mattia Bovi, giocatore del cui arrivo in Via Gorra si è resa conto soltanto la segretaria biancorossa al lato del tesseramento. Il centrocampista di Fidenza, con umiltà estrema ma notevoli capacità, si è imposto all'attenzione del pubblico e soprattutto di Mister Viali. Difficilmente il tecnico Lombardo farà meno in futuro del biondo centrocampista. Un reparto, quello mediano, nel quale i flop di queste prime giornate rispondono evidentemente al nome di Pani e Cortesi. Si tratta evidentemente di crisi di ispirazione da parte di giocatori destinati a riconquistare presto il proscegno dall'alto di una qualità tecnica al di sopra della media, fino a questo punto del tutto inespressa. Pur un infortunio ha intralciato la strada del Sardo verso la rinascita. Per Cortesi, solo Lampi, di una classe cristallina che in estate lo aveva proiettato sul tacquino di direttori sportivi di mezza Serie C. C'è poi Bomber De Vecchis, che domenica ha dato l'impressione di possibile risveglio. Dal ritorno al gol in via continuativa dello Svaldo Del Garelli passeranno tante delle fortune di un Piacenza che già domenica prossima, nella delicata trasferta di Gozzano, avrà necessità di tornare a contare su tutte quante le grandi firme.